buongiorno a tutti sono Dario Gallinaro e oggi abbiamo con noi un personaggio molto particolare perché rappresentativo di una realtà molto controversa spesso misteriosa di cui si parla tanto ma si conosce poco la massoneria e qui con noi Stefano Edoardo Erario ciao Stefano ciao Dario buongiorno a te buongiorno ai tuoi ospiti e seguaci della pagina tutto Mauro Billino di cui ne sono anche io uno dei seguaci buonasera e scusate innanzitutto per il rinvio di questa nostra registrazione diretta diciamo dovuta ai fatti noti del trascorsi in America insomma ecco sì inizialmente dovevamo fare una una diretta poi per questi imprevisti abbiamo optato per un'intervista registrata grazie Stefano presentati che che ruolo hai rivestito in passato e hai tutto oggi all'interno della massoneria allora oggi eh per fortuna o eh diciamo non troppa però per il per il carico del ruolo che ho ricoperto ho terminato questo che è stato un mandato di tre anni dal 2017 al 2020 di gran maestranza nella obbedienza massonica serenissima gran loggio unita d'Italia una obbedienza qualcuno dice minore o maggiore spiegheremo magari dopo con calma il significato di di questi termini ma che in realtà proviene a un diciamo una discendenza eh di gran maestranza sin dal 1952 registrata nei nostri archivi con decreti certificati e passaggi di maglietto come si dice quindi una obbedienza massonica registrata oltretutto con atti notarili come eh associazione massonica e non filantropica o culturale questo vuol dire che la nostra associazione si rifà nell'ambito giuridico sia al contesto diciamo associativo eh nazionale determinato anche dalla legge 25 e 17 dell'ottantadue in virtù della famosissima eh P2 e diciamo il processo verso la loggia P2 e quindi anche autocensiti al al ministero dell'interno come vogliono le nostre usanze noi tutti i gran maestri della serenissima si sono autocensiti presso il ministero dell'interno compreso io e il nuovo anche gran maestro che è l'avvocato Gianfrancesco Piscitelli eh che ha preso il mio posto proprio quest'anno l'anno scorso oddio perché siamo nel 2021 quindi poco tempo fa e invece e quindi dicevo scusami per completare il discorso del dell'associazione massonica noi ci rifacciamo dunque a quelli che sono i criteri massonici con chiaramente riferimenti agli statuti ai regolamenti e alle costituzioni massoniche quindi abbiamo procedimenti e procedure che sono assolutamente eh diciamo massoniche anche nel rispetto chiaramente delle leggi della costituzione delle regole della costituzione oggi sono membro del rito scozzese antico accettato denominato titolato del levante che è un un rito scozzese diciamo un adesso poi magari spieghiamo ai nostri eh diciamo spettatori qual è la differenza tra rito obbedienza alloggio perché in realtà c'è tanta confusione e speriamo stasera di di almeno venirne fuori in un modo che ci dia un quadro preciso della della costituzione massonica sì io insieme a te tenterò di 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 dare per quanto io possa essere bravo nel poterlo sintetizzare dare eh diciamo un aspetto anche tecnico se volete anche per capire bene poi in realtà eh dove ci si trova e come uno dei diciamo dei delle male informazioni che ha e gira nel web ma non negli ambiti massonici è quello che per esempio il liceo gelli della loggia p2 era gran maestro in realtà non era un gran maestro era un maestro venerabile un maestro venerabile e maestro della sua loggia locale il gran maestro è il rappresentante eletto da tutti i maestri venerabili quindi il gran maestro in realtà è una figura ancora più importante e che raccoglie diciamo una responsabilità nazionale a volte anche internazionale e di gran eh di gran lunga più diciamo importante di quella che invece aveva eh liceo gelli in pratica lui governava ad un certo punto forse anche autonomamente diciamo eh i processi di iniziazioni eh spesso fatti noi diciamo sulla spada e anche qui spiegheremo cosa vuol dire questo termine per capire qual è la differenza in realtà tra una loggia massonica e una non loggia massonica ecco io spero di potervi almeno risolvere questi diciamo questi dubbi o queste male informazioni quindi lui era un maestro generabile io ho ricoperto all'epoca di di vicegelli il gran maestro eh era eh diciamo prima nella nella prima fase al ma Armando Corona e poi abbiamo il Giuliano di Bernardo con le vicende che poi magari racconteremo ecco oggi qual è il ruolo della massoneria di cosa si occupa ma il ruolo della massoneria la massoneria si occupa di quello che si è occupato sempre quello di un miglioramento personale e di conseguenza non forzatamente ma di conseguenza un miglioramento sociale miglioramento personale individuale basato su studi su istruzioni su riti perché la massoneria è anche e soprattutto una associazione diciamo esoterica e quindi è basata su un esoterismo cioè una ricerca interiore di sé oltre che essere una scuola iniziatica e anche poi interrompo vorrei aprire e chiudere una parentesi giusto per non evitare preintendimenti per esoterismo si intende delle conoscenze riservate a pochi riservate a chi è all'interno di un certo ambiente quindi non non è necessariamente qualcosa di eh che le persone spesso associano l'esoterismo tipo all'occultismo a qualcosa di magico qualcosa del genere in realtà la parola esoterismo significa semplicemente che è riservato la conoscenza di quella cosa è riservata a chi è all'interno di una certa cerchio sì hai hai detto bene esoterismo la parola esos è in realtà è proprio quello che stavo accennando è una via di un percorso interiore a differenza di quello essoterico che invece rappresenta una visione esteriore di una conoscenza è chiaro che la riservatezza quella quella secretezza che come tu ti riferisci e che ancora denominata è anche in un senso ostentata in in diciamo piacevolmente dalla massoneria anche oggi perché in realtà è una conoscenza riservata ad a coloro che si iniziano e che quindi scelgono di fare una strada un percorso insieme ad altri iniziati che porterà diciamo a conoscenza di alcuni argomenti alcuni diciamo alcune anche alcuni rituali perché abbiamo detto che essendo iniziati ci si rifà ad una scuola che comunque proviene da quelle che furono le scuole iniziati nei tempi cioè scuole a cui ci si doveva iniziare ritualmente e che questo poteva avvenire solo se l'iniziazione fosse stata fatta da iniziati questa è una prorogativa che io tengo a sottolineare perché può già questo fatto distinguere qual è una massoneria iniziatica e dunque una massoneria regolare al mio avviso poi parleremo della regolarità invece politica della massoneria la regolarità e su cui tutti convengono i massoni e che ci sia una iniziazione e che sia stata compiuta e attuata e quindi prestata al profano spiegheremo anche queste parole attraverso un'iniziazione data da maestri iniziati e non da singoli individui che fanno cose che non sono la nostra massoneria vorrei partire da da un approccio in comune per attenerci alle tematiche della pagina la bibbia la maggioranza delle persone che ci seguono me compreso hanno una visione dei contenuti biblici a fine quella proposta da maurio ossia che in origine la bibbia non si prefigeva di parlare di dio in mondi spirituali ma che tali contenuti siano stati poi calati dentro nel corso degli infiniti rimaneggiamenti della bibbia subito e se vogliamo dirla tutta che nella bibbia come nel resto della letteratura antica troviamo le testimonianze di una civiltà tecnologicamente evoluta e separata dal comune genere umano cosa pensa la massoneria di questo argomento se non ha una posizione ufficiale cosa ne pensi tu personalmente grazie per la per la domanda tipica del gruppo tutto mauro billino oltretutto mando i saluti a mauro e innanzitutto devo però fare una premessa che magari ci è sfuggita oggi qui io sono in veste di massone e non della massoneria nessun massone in realtà può parlare della massoneria ma parlo evidentemente sulla base della mia ventennale esperienza nella libera muratoria ecco questo è un passaggio è un passaggio molto importante anche che si capisca la natura del massone così genericamente è nominato perché io sin dai primi tempi e anche dicendo venendo fuori da una famiglia che ha tenuto massoni nella sua nel suo albero genealogico anche molto importante la parola massoneria non mi è sempre piaciuta te lo dico proprio con lo sanno tutti i miei diciamo i miei fratelli che hanno avuto il piacere di di farmi questa domanda a cui io ho sempre risposto in questo modo la parola massoneria non mi è mai piaciuta e forse ancora continua non piacere se non per alcuni aspetti sociali la parola che invece io amo e che ritengo faccia parte della mia personalità e la libera muratoria spesso viene associata come se fossero due nomi molto simili in realtà non lo sono però proprio in virtù di quel fatto che una libera muratoria si rifà ad una scuola iniziatica evidentemente ad una diciamo questione associativa molto riservata che si magari rifaceva per alcuni al medioevo con diciamo le corporazioni medievali dei costruttori questo ci sta però io devo aggiungere anche che in realtà esistevano anche molto prima le ritroviamo per esempio nei collegi a romani e altre corporazioni che davano fastidio anche all'imperatore e che evidentemente sempre i gruppi che si formano liberamente abbiano sempre avuto un po di nemici ecco la massoneria in realtà come termine è molto più recente e ci dobbiamo rifare alla massoneria cosiddetta moderna quella diciamo fondata in inghilterra sia nel 1717 ma poi diciamo nel 1724 con anderson nelle sue landmark ne dava anche una sorta di 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 marcatura ecco questa è una bella differenza su cui a me piacerebbe invitare i tuoi spettatori ad una più eh importante eh diciamo eh conferenza come come quelle a cui tu hai assistito perché noi dobbiamo dire che ci conosciamo da un bel po' anche soprattutto perché ci siamo conosciuti in queste conferenze con i templari e roba male quindi io desidererei sempre marcare il fatto che esisteva ben prima la libera muratoria e quello che dici tu vengo alla tua domanda il massone non deve avere limitazioni per sua natura non li ha su quella che è la conoscenza ma la conoscenza a volte non è solo quella scritta sui libri o quella come si faceva un tempo proprio tra i liberi muratori quella orale ma c'è un altro tipo di conoscenza che è la conoscenza intuitiva e personale di ognuno di noi che è frutto invece della è una sommatoria diciamo il calcolo di tutta la sua conoscenza e che e quindi se ci si ci ci sono degli intuiti che portano a un altro tipo di divisione delle dei fatti o delle scritture benvengano la massoneria non può avere preclusione e il tuo pensiero personale il mio pensiero personale anche qui lo conoscono molto bene i miei diciamo fratelli e sorelle con cui condivido questo tipo di materie perché sono materie che in realtà in pubblico facciamo poco perché ci sono i soliti pregiudizi tu avrai ben notato quanti pregiudizi si sono su tutte le materie perché oggi special modo con l'utilizzo di queste piattaforme bellissime da un punto di vista innovativo tecnologico ma altrettanto dannose su altri punti di vista che vedremo magari dopo ecco diciamo che con i fratelli e sorelle noi parliamo comunemente di questi aspetti di queste diciamo verità alternative dove in verità poi si creano quei contesti intuitivi da dove si possono tirare fuori a volte anche delle ipotesi molto interessanti quella di mauro sicuramente non è un ipotesi all'inizio sembrava esserla almeno lui io l'ho conosciuto nel 2012 barra 13 in un premio nazionale sul mistero a roma e all'epoca non era tanto famoso però era già conosciuto quindi le sue teorie ma io credo che non siano teorie per lui siano dei fatti abbastanza accertati sulla base di quello che ha che diceva prima che a me piaceva molto cioè io traduco quello che c'è scritto poi saranno gli altri a trarne la loro conclusione adesso in realtà si è un po sbilanciato sul fatto che comunque sia e lui afferma in realtà è convinto anche e questo rimane sempre nel suo libero pensiero nella sua espressione cosa che non si può assolutamente non so negare la conoscenza ce l'ha ed è assoluta l'interpretazione è biblica quindi ognuno avrà anche l'interpretazione della verità questi testi sono stati utilizzati dalla teologia per scopi teologici evidentemente però chi fa massoneria esoterica non ha in realtà questa visione io non ho una visione teologica delle scritture e sono convinto che la il testo sacro l'antico testamento ma anche il nuovo testamento di cui sono un divoratore diciamo così accurato ecco io credo che ci sia ben altro dietro che non sia scritta con mani d'uomo questa è una mia pubblica dichiarazione credo che ci sia ben altro da scoprire nel tempo e che ci sia un qualcosa che ancora noi non sappiamo questo non vuol dire che necessariamente c'è stata una popolazione marziana o diciamo extraterrestre ma che potrebbe anche parlare di una popolazione precedente a quella attuale oppure comunque quella contestuale alla storia perché la storia comincia con i sumeri quando si comincia a scrivere quello che succede quindi quando c'è l'avvento della scrittura e quindi non sappiamo in realtà quanto prima ci fosse anche a livello di tecnologia purtroppo tutti i reperti tecnologici tendono ad usurarsi in sei mesi e quindi la testimonianza poteva essere solo scritta e trascritta attraverso la pietra che è uno dei nostri fondamenti noi facciamo tutto riferendoci alla pietra e quindi questo credo che sia abbastanza per aver risposto alla tua domanda quindi diciamo comunque siamo siamo d'accordo sul fatto che per lo meno la la storia andrebbe rivista e riscritta ma guarda io non sono scusa ti interrompo subito perché questo modo questa moda di voler riscrivere a tutti i costi la storia io non la vedo una cosa molto positiva perché noi possiamo tranquillamente aggiungerci qualcosa una rettifica ma non un cambiamento rettificare un qualcosa escludendo per esempio gli scenari teologici no se noi escludiamo questi scenari possiamo assolutamente decidere poi aprire altre altre questioni dove ci porteranno ad una conoscenza ancora ben più approfondita che non solo in quella diciamo così e mistica e teologica cui si riferiscono i dogmi oltretutto cosa che la massoneria e io come massone assolutamente convengo nel nella diciamo aborrire proprio queste queste questi dogmi perché il dogma non porta sicuramente ad una conoscenza più approfondita e critica ecco quindi io ci terrei proprio a evitare il termine riscrivere la storia perché altrettanto poi si troveranno coloro che fra un po di tempo la riscriveranno di nuovo io credo invece che la storia sia un po la vita dell'umanità e che questa sia rispettata capendone però anche i contesti temporali e anche magari non solo comprendendoli ma anche accettandoli perché ci sono tanti riferimenti che ci dicono che la storia è stata scritta da 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 chi vince la storia no e questo molto probabilmente accadeva ma accadeva già nel nel periodo egizio insomma no ecco quindi e diciamo che è un'indole umana però ci sono le stereografie c'è l'archeologia che può aiutare un po non a riscrivere la storia ma a darne sfumature con alternative soluzioni questa di di biglino mi sembra una bellissima bellissima io ritengo che sia veramente un contributo all'umanità pensa che io che idea che ho di questa vostra diciamo pagina o di lui in particolare credo che sia un supporto un apporto assolutamente scientifico non sono d'accordo su alcuni su alcune deduzioni perché credo che a mauro biglino manchi mi permetto di lanciare questo messaggio attraverso questa pagina visto che lui sicuramente la vedrà manca un po lo studio della cabala oppure se lo ha fatto e sono convinto che lo abbia fatto non ha diciamo colto quella che poteva essere una visione cabalistica mistica e che invece da cabalistico esoterica ha avuto il suo decadimento e credo che debba guardare questo se ne ha voglia perché io durante gli anni di studi cabalistici guarda c'è un metodo io mi sono sempre posto dall'altra parte di chi volevo capire quando ho voluto capire cos'era la chiesa mi sono interessato come se fossi un proprio quasi un prete e l'ho capito anche in questo caso se vuoi capire una cabala mistica ti devi porre con lo stesso diciamo obiettivo cioè quello mistico ed è chiaro che poi devi saper scindere e tornare sui tuoi passi facendone un'analisi più completa non mi voglio dilungare perché queste sono materie mie a cui tengo molto però credimi che il lavoro che fa mauro è molto interessante però anche per quanto riguarda l'ieloim dovrebbe riguardare anche il significato di questi nella cabala mistica e poi magari dedurne le conseguenze o i risultati credo che non siano molto diversi ho compreso ho compreso la distinzione che fai tra riscrivere e aggiungere alla storia per certi versi sono d'accordo per altri no nel senso che nel momento in cui la riscrizione comporta la negazione di una cosa che era di punta vera lì parliamo di appunto di riscriverla per certi versi quindi magari è è un guarda ti do ti do uno spunto perché c'è tantissima storia in realtà che è stata proprio cancellata ecco ed è la storia cancellata che oggi ti potrebbe in realtà servire di più non quella da riscrivere ma quella cancellata ti lancio questo sassolino nello stagno ma chi ha orecchi insomma oda beh ma per tantissimi per una buona parte nel parlare di riscrivere la storia parliamo proprio di quella lì che è stata cancellata che è stata volutamente trattata perché non era funzionale a certi interessi e certe direzioni del potere che dovevano essere imposte diciamo sì sì in particolare c'è la storia di un popolo che è stata anzi di un impero che è stato cancellato ti riferisci a lo vediamo dopo allora vorrei menzionare un aspetto che si protrae fino ai nostri giorni sempre riguardo alla bibbia nel deuteronomio è indicato che una parte degli ebrei avrebbe dominato altre nazioni per mezzo di un prestito ad interesse oggi questa profezia pare essere realtà in quel principio finanziario noto come signoraggio bancario cosa ne pensi al riguardo come nassoni allora tu con questo esempio ti rifai chiaramente a del popolo ebraico io insomma devo devo purtroppo ti dar dentro sempre qualcuno ma non farò nomi mai di alcuni invece però per quanto riguarda questa tua domanda specifica e mi porterebbe più a pensare questo cioè al fatto che nelle interpretazioni dogmatiche del libro di uno dei libri del dell'ebraismo di cui tu fai riferimento in realtà si trattasi di popoli ebraici che devono comportarsi in un certo modo e verso i propri o non verso i propri verso quelle che poi noi chiamiamo profani e in realtà credo che siano anche queste delle forme che vanno diciamo contestualizzate al periodo in cui sono state scritte e che avessero sicuramente un anche loro un significato chiaramente sociale e chiaramente di difesa di quella che poteva essere all'epoca vista come la religione da tutelare dai loro occhi insomma almeno dal loro punto di vista credo invece che poi quello a cui tu ti riferisci è stato estrapolato e manipolato come tutte le altre cose ebraiche che sono state utilizzate e manipolate persino contro il popolo ebraico di cui io sono assolutamente un estimatore popolo ebraico dopo dirò la differenza se vuoi rimanendo alla realtà attuale del signoraggio bancario visto che la masseria viene chiamata spesso in causa a volte per cose nelle quali è realmente implicata altre volte no nel per quanto riguarda il signoraggio bancario qual è la la posizione della massoneria mi fai una domanda che non ha in realtà una risposta perché tu nella stessa domanda metti la massoneria così in un campo dove in realtà io non la ci vedo proprio ecco questa proprio per questo ho fatto questa domanda perché proprio per questo siamo qua che venga tirata in ballo sì quando i massoni stessi dicono che loro non hanno a che fare con una determinata realtà quindi sì io io non sono non sono di parte né ritengo che lo sia e che non lo so lo so la tua posizione quindi ti ti metto nella condizione di poter chiarire la posizione di un massone in riferimento a realtà che è una realtà detestata da molti assolutamente sì io direi che in principio c'è un fraintendimento o magari anche questa volta come è successo al popolo ebraico anche la massoneria è stata strumentalizzata ai fini di alcuni e li abbiamo i periodi storici dove ci si può rifare su queste diciamo ipotesi che sono i periodi storici anche quelli più recenti e quelli dei famosi illuminati che creano queste condizioni ma la massoneria esisteva prima degli illuminati e gli illuminati finiscono molto presto il loro cammino o la loro intrusione nella libera muratoria quindi io non sono d'accordo in assoluto all'accostamento della massoneria in questi termini filo economici e bancari io rifiuto da da massone ma da anche da da conoscitore della massoneria storica che che questa non non può essere assolutamente un'associazione che ha scopi così diciamo finanziari o io non io non ho mai conosciuto io ho conosciuto personaggi e ne conosco ancora che hanno dei ruoli sociali molto elevati importanti ma che io abbia sentito dalle mie orecchie parole diverse da quelle della fratellanza e dell'uguaglianza e della libertà io sfido chiunque io non le ho mai sentite sicuramente sicuramente io dico e affermo che la lingua italiana in realtà già ci spiega moltissimo di come ci si distingue tra cose e persone la massoneria anche da wikipedia ci dice cose carine no che è basata sulla fratellanza è un'associazione ma poi ci sono le nostre dichiarazioni che facciamo nel nostro nel corso della nostra vita massonica che sono un po il sunto di quello che il massone deve aver diciamo così acquisito della conoscenza e cioè sono quelle parole a cui noi diamo importanza ma anche struttura che sono il rispetto dei principi umani basati sul trinomio della libertà l'uguaglianza e la fratellanza non c'è scritto economia qui dentro invece io invito tutti i tuoi ospiti ma anche i fratelli che ancora vivono nella confusione che la lingua italiana aveva già e ha già distinto queste consorterie dalla massoneria dalla libera muratoria lasciami dire libera muratoria perché altrimenti cadiamo sempre nel solito inganno inganno della manipolazione della libera muratoria e il primo è proprio la parola massoneria perché i primi inganni si fanno con le parole quindi la lingua italiana come dicevo prima è già chiara il nome a cui dovete dare a questa gente è consorteria consorteria vuol dire che ci sono delle famiglie bene che storicamente potenti che vogliono mantenere uno status o comunque ideologicamente un potere su sulla società che si conformano in questi gruppi che oggi conosciamo benissimo e che conosciamo molto bene perché ci sono stati dei personaggi che tu conosce che io saluto senza dire nome che hanno fatto studi incredibili su questo sul lineaggio familiare aristocratico così detto che ha prodotto in realtà dei veri e propri mostri economici e che sono anche non sono anche sono solo il problema attuale quindi consorteria non chiamate la massoneria perché nella massoneria io sfido chiunque ad aver sentito una parola che vada contro i principi umani o contro quelli che sono i nostri principi più diretti quello dell'uguaglianza e della libertà io non credo che che forse l'ottanta per cento il novanta per cento dei massoni che si vede ritirare il proprio la propria espressione e ci si sta muovendo sulle sedie noi abbiamo un gran rispetto lo vedremo proprio dei chiaramente delle normative costituzionali del del di quello che è un'emergenza sanitaria però ricordiamoci che la massoneria in sé la libera muratoria in sé proprio perché per sua natura confuta nel pluralismo le soluzioni diciamo gli eventi beh in questo caso la libertà di espressione non diciamo impedisce questo meccanismo e quindi credo che la massoneria il massone in particolare stia un po diciamo ballando sulla sedia non è apprezzato questo meccanismo me personalmente è assolutamente odioso chi chi crea queste condizioni poi magari vedremo qual è il diritto di una piattaforma di poter gestire la libertà persino di un presidente degli stati uniti che è la massima espressione ancora oggi che se ne dica della libertà nel mondo quindi questo credo di averlo abbastanza spiegato la parola da usare da domani speriamo è consorteria andate su tre cani andate facciamo pubblicità anche ai nostri libri di riferimento più eccezionali consorteria la massoneria è un'altra cosa e questo ci riporta a quanto stiamo vivendo nei nostri giorni è chiaro che ciò che sta avvenendo in Italia e nel resto del mondo ha molto più a che fare con politica e finanza che con la sanità molti attribuiscono anche in questo caso la colpa ad oscuri piani massonici e all'intento di sopprimere la libertà dei popoli quindi ancora una volta hai l'opportunità di parlare agli ascoltatori dicendo qual è davvero la posizione della massoneria o se essa ha un ruolo nel modo in cui la sanità l'emergenza sanitaria viene gestita attualmente parlando di di sfumature politiche finanziarie nella gestione dell'emergenza sanitaria io ripeto ribadisco e credo che non so se è difficile ma però mi sembra abbastanza veramente semplice la istituzione massonica come mondo massonico è un fatto a sé quello che poi possono fare i singoli massoni è un'altra questione ma che si possa parlare di una loggia massonica perché abbiamo detto prima che necessario e sufficiente affinché si parli di loggia massonica e che ci siano stati degli iniziati che iniziano iniziati ma che sistematicamente ritualmente portano avanti diciamo la conoscenza e il miglioramento di sé anche attraverso esoterismo ma anche diverso e attraverso la discussione del del mondo sociale perché è vero che la massoneria come dicono spesso alcuni che si ergono a rappresentanti della massoneria che che non si deve parlare di politica o di religione questo noi lo facciamo e te ne do un una testimonianza lo facciamo nell'ambito dei nostri lavori architettonici cioè nell'ambito delle nostre riunioni evitiamo o escludiamo assolutamente che ci sia questo dibattito proprio perché dibattiti di questo genere hanno diciamo la la facoltà di separare invece che unire la massoneria deve assolutamente trovare l'unità è vero che si ci si destreggia tra luce e buio tra bianco e nero tra verità e e e menzogne ma la massoneria ha un dovere per quanto riguarda l'istituzione poi ogni massone ne ha assolutamente invece la responsabilità di trovare l'unità e non trovare diciamo la lite o una discussione accesa quindi se un massone parla di massoneria al di fuori del suo tempio insomma la massoneria non parla di di politica ma la politica spesso e volentieri si occupa della massoneria e molto spesso lo fa anche diciamo malamente ecco e quindi invece io consiglierei ai fratelli di essere più espressivi anche dal punto di vista politico non facendo nomi però nelle incapacità dei governi perché non ci si deve esprimere cos'è questo è una censura o un'autocensura a poter dire cose che in realtà si occupano della vita di ogni giorno di ogni massone quindi credo che debba rimanere la formula che in massoneria durante i rituali non si possa parlare di argomenti che dividono ma che fuori ci si debba invece occupare anche con vemenza quando vengono meno i diritti sui principi massonici guarda caso io a discapito di quanti possano crederci infilati dentro questi contesti e io fui a in tempi non sospetti forse uno dei primissimi a scrivere magari mandiamo il link di questo mio articolo proprio ad uno di questi rappresentanti così poco esperti di politica che inveivano e anche discriminavano da subito la massoneria e quindi voi vi dovete chiedere questo vi dovete chiedere il perché questi governi sono saliti discriminando per prima la massoneria e io sono stato uno di quelli che da subito ha denunciato questo fatto la discriminazione perché come dissi all'epoca ricordatevi che quando c'è odore di dittature che possano essere economiche come volete moderne digitali o spadaccine si comincia sempre dalla massoneria e dagli ebrei attenti che questi sono fattori ormai assodati quando sentite che qualcuno comincia con la massoneria a discriminarla non accettarla a impiantare processi che poi si risolvono tutti con assoluzione ecco perché non esistono questi rapporti ecco che bisogna che la società si spaventi quando si comincia a parlare male o escludere la massoneria da ruoli che possono essere assolutamente e lo sono perché noi ne abbiamo tanti che conosciamo che sono seduti lì dentro il parlamento anche dentro il senato che sono fratelli massoni che hanno deciso magari di allontanarsi un attimo dalla massoneria proprio per non essere ecco accusati di lavorare occultamente per la massoneria bensì però si preoccupa noi abbiamo esempi nell'ambito della storiografia della politica italiana di massoni eccellenti che si sono battuti abbiamo esempi di sindaci come Ernesto Nathan ti ricordi il sindaco di Roma da dove scaturì la famosa parola non c'è tripa per gatti evidentemente era un politico che ha massonicamente dato un principio il principio dell'uguaglianza no e poi abbiamo giovanni merloni che fu assolutamente portato a all'esilio da muzzolini abbiamo personaggi veramente di un calibro incredibile che hanno fatto sì che oggi noi possiamo ancora parlare pubblicamente quindi credo che sia la massoneria fuori da questi contesti c'è la consorteria è una consorteria che io la collocherei sul oriente europa non ti do nomi per non creare le stesse condizioni di discriminazione perché anche lì c'è gente magnifica dal momento che dal momento che abbiamo appunto eh parlato di questa libertà di espressione che ogni massone deve avere dicci un po' qual è il tuo personale punto di vista sul modo in cui l'emergenza sanitaria viene gestita o eventualmente strumentalizzata a livello sia italiano sia globale allora innanzitutto ci siamo allontanati per quanto mi riguarda dal focalizzare il problema da focalizzare qual è stato il problema cioè qual è stata la causa che ha fatto sì che scoppiasse un attimino questa pandemia dicono alcuni che no che non è una pandemia dicono alcuni noi rimaniamo sempre nell'ambito della fiducia estrema di chi abbiamo votato in una democrazia quindi non possiamo avere dubbi fino a prova contraria cioè quelli giuridici basati su sentenze che molto probabilmente arriveranno a fare i spenti quando tutta questa questione sarà superata adesso non ci possiamo assolutamente permettere di essere rivoltosi nei confronti di chi sta organizzando un qualcosa però dobbiamo essere anche altrettanto saggi da poter fare alcune diciamo deduzioni attraverso gli studi attraverso ascoltando i medici magari che non sono proprio diciamo di parte su questi meccanismi io ci vedo molta molta incoerenza su alcuni aspetti ci vedo una esagerazione ma che poi qualcun sociologo mi ha spiegato che le esagerazioni governative dipendono sempre dal numero della massa che si muove io da simbolista gli ho dato ragione cioè io mi sono sempre occupato di simboli tu lo sai a me la materia che piace di più la politica piace poco o meno diciamo ho sempre raffigurato il popolo come l'elefante e i governanti o le consorterie come i topolini bene l'elefante ha paura del topo lo sappiamo in natura la natura ci spiega la simbologia il topolino approfitta è furtivo mi piace anche fare riferimenti a quelle religioni che ne hanno fatto in realtà anche dogmi che sono le religioni hindu dove il dio stesso è rappresentato con il volto dell'elefante Genesha per esempio nell'induismo nei veda diciamo no dell'indu allora il topolino l'elefante che rappresenta il popolo deve stare attento il topolino perché quando si muove l'elefante come dico io un lampadario lo rompe quando si muovono gli elefanti i lampadari si rompono e spesso i topolini li schiaccia magari non li schiaccia volontariamente ma perché è spaventato e quindi noi attraverso questa metafora vogliamo mandare un messaggio ai nostri governanti quelli saggi quelli incompetenti devono andare via perché i danni sono troppi e stiamo attenti all'elefante e stiamo attenti all'elefante l'elefante deve stare sereno deve poter cibarsi deve poter mi ricordo un detto romano che diceva non fate mancare mancare al popolo il pane e il colosseo quindi togliere gli stadi togliere i teatri togliere io credo che si stia provocando troppo l'elefante che si trovi invece innanzitutto un sistema cioè abbiamo avuto un anno e mezzo fra un po' un anno da marzo ma un anno e mezzo perché lo sapevano prima credo i servizi segreti o comunque lo sapevano già da prima hanno avuto tempo per esempio di costruire abbiamo visto la italianità che viene fuori quando si deve costruire non quello che a cui fanno riferimento questi nuovi consortari ma la costruzione l'italiano che si dà da fare anche volontariamente a costruire ospedali cioè creiamo le strutture che possono evidentemente accogliere e non le strutture diciamo terminali che sono quelle magari basate sulla rianimazione ma facciamo guarda uno degli errori più eclatanti è la chiusura dei pronto soccorso è una cosa che veramente io non riesco a capire ma non riesco a capire non da medico non da da uomo da uomo da da persona come tutti gli altri che siamo questi un pronto soccorso efficiente avrebbe evitato il panico perché avrebbe subito evidenziato le differenze tra un semplice raffreddore ed una magari patologia più complessa come quella di questo virus o avrebbe assolutamente controllato quella che poteva essere una morte di infarto e quindi le attribuzioni poi così smisurate sono assolutamente diciamo negative dal mio punto di vista e che la giustizia evidentemente a cui io assolutamente fiducia assolutamente non perdete la fiducia nella giustizia nonostante i clan palamari del genere che avete purtroppo assistito in questo caso mi piace fare il nome perché non non è una bella storia quella e non finirà bene neanche qui quindi abbiate fiducia nella giustizia adesso l'elefante deve sopportare un po ma la verità viene fuori sempre ragazzi non perdiamo mai di vista questo nostro faro che è la verità perché la storia ci insegna perché questi consortari da quattro soldi devono sapere che la storia quella dell'uomo non la storia scritta ma la sua evoluzione la sua conoscenza ha fatto sì che l'uomo oggi sia quello che è cioè un uomo libero un uomo almeno per quanto riguarda le nostre zone perché ci sono ancora posti dove questi non sono liberi e oggi da questi consortari vengono presi come riferimento sono da mandarli lì evidentemente vabbè ci stiamo avvicinando anche noi nel quadro della no 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 è molto difficile credimi perché questa è anche una questione del dna dove alcuni vogliono intervenire il dna non lo cambi in due anni un dna un dna attraverso un rna è assolutamente il trasportatore di alcune informazioni e generatoriali diciamo che noi esoteristi conosciamo quando facciamo gli studi dell'alchimia quindi questi signori magari devono rivedere anche questi meccanismi non credo che nel popolo occidentale questo sia veramente possibile non credo e non spero anche io ho più speranza che fiducia ma devi avere la speranza non la perdere mai a questo punto io passerei a parte alcune domande poste dal nostro pubblico ad alcune già risposto in parte magari rivediamo una risposta sintetica mirata alla domanda specifica allora è di analisa analisa de blasio sarà un profilo misto di due persone una coppia probabilmente chiede cosa è un massone rispetto a un componente politico cosa fa e o non fa di differente come vive la vita quotidiana beh io comincerei dall'ultima come vive la vita quotidiana non siamo mica extraterrestri o rettiliani che facciamo cose diverse avrei visto anche io a questa insomma tu mi conosci pure insomma siamo stati insieme una giornata intera io non credo abbia fatto cose diverse da quelle che fai tu a parte l'aspetto fisico che io sempre ti diciamo così ti faccio presente che il tuo insomma è quello che è sei una bellissima persona io magari no però non facciamo cose diverse ma poi anche la domanda il politico massone il politico massone è un anzitutto un uomo che nella politica deve si spera poter attuare quelle che sono state le sue diciamo non solo conoscenze ma anche quelle che sono i suoi sentimenti massonici io credo che guarda c'è stata la vado a vedere il nome perché non non lo ricordo perché non possono essere nomi da ricordare così su però c'è stato proprio in questi giorni diciamo è una rivendica massonica che ci fa piacere che tutti così seguono ma c'è stata una rivendica cioè l'alto commissario delle nazioni unite dell'onu michelle bachelet si è rivolta così in una riunione di una gran loggia dicendo abbiamo bisogno dei principi massonici questo denota due fatti importanti uno è finalmente quello di aver chiaro per alcuni che la massoneria direttamente non ha di per sé come proprietà le nazioni unite cosa che è stata sempre detta cosa che io sento anche nonostante le dichiarazioni di questo alto commissario che invece parlando ai massoni dice avremmo bisogno di tutti voi con i vostri principi e quindi ci fa capire che in realtà i principi della massoneria che sono stati ispiratori delle nostre costituzioni quanto in contemporanea magari quella della costituzione delle nazioni unite ma sono solo principi che devono essere perseguiti anche nel mondo profano e che quindi questo ci può essere solo rivendicato come non ideologia proprio come senso della vita il senso della vita dell'uomo moderno oggi deve essere assolutamente questo e i principi massonici sono solo e gli unici a garantire questo io mi arrabbio quando sento cose diverse da questo la massoneria voi dovreste invece difenderla credetemi perché siamo gli unici che abbiamo continuato anche nelle grotte e nelle caverne nelle cantine a portare avanti questi ideali cioè l'idea di una società che si basasse sul rispetto dei principi dell'umanità che si basasse sul principio anche dell'uguaglianza etnica perché non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che la massoneria apra al mondo come una visione unica ma non basata su economie non basata su esperimenti io starei molto tranquillo perché i codici di norimberga di helsinki di tokyo di venezia fatemene elencare qualcun altro noi siamo sereni quei codici non si possono toccare chiunque tenterà di fare questo allora l'elefante si deve muovere perché quei principi quei codici sono stati scritti al di là e alla fine di una spaventosa guerra che io con i miei studi riporto ai soliti personaggi con i soliti meccanismi sin dall'epoca e che ha tentato già una volta di impadronirsi del mondo e non c'è riuscita e gli stessi personaggi su scuse fantomatiche sull'esclusione della massoneria vuole reimpiantare quello che io chiamo un totalitarismo moderno c'è uno studio molto bello fatto dalla professoressa picciao che io invito tutti a leggere dell'università di cagliari sul totalitarismo di destra e di sinistra che assolutamente diciamo così chiaro nel fatto che si accomunano proprio in questo c'è in delle caratteristiche che sono molto simili se non proprio uguali nei meccanismi di impianto del totalitarismo e quindi è chiaro che poi si parla di consumismo di capitalismo ma quelli sono sono diciamo gli effetti invece qui c'è un tentativo magari di impiantare un totalitarismo nuovo e che magari per alcuni io voglio veramente non crederci perché sarei molto arrabbiato magari approfittando politicamente come dice qualcuno di una pandemia ma che se fosse stata così artificiosamente prodotta per indurre per invogliare gli altri paesi a questo totalitarismo ebbene l'elefante è bene che si armi proprio e che non sia solo il movimento che lo giustifichi perché non sto invocando guerre non voglio assolutamente che si armi vuol dire che si tenga d'occhio il fatto che c'è qualcosa che non va presa alla leggera e che quindi ci si armi di pazienza nel sopportare l'evento ma che ci si armi pure di buona coscienza e di buon spirito fraterno per unire i popoli contro questi personaggi che sono veramente molto pochi credetemi qualcuno pensa guarda poi gli stati europei che sono in mano a personaggi veramente discutibili ma discutibili nell'animo poi spiegheremo anche la differenza dell'utilizzo della cabala delle espressioni dei dei nomi e anche questi no l'ultimo è quello dei costruttori impropriamente così lanciato sia dal presidente della cabala impropriamente perché non hanno idea di che cosa vuol dire costruire essere liberi muratori per un massone non hanno idea di che cosa vuol dire vuol dire ogni giorno credere in quello che ha giurato di credere quello e con cui condivide gli altri cioè quello della salvaguardia dell'umanità e dei suoi principi quindi questi linguaggi impropri che io denuncio dall'inizio sin da quando hanno escluso la massoneria perché era forse l'unica che poteva interpretarli perfettamente e quindi capire che c'era qualcosa che non va non è la massoneria che sta facendo questo ha detto bene trump è una cabala io la cabala la guardo sempre come quello che è cioè una tradizione una trasmissione a cui tu ti riferivi forse non è umana come dice la cabala mistica è stata data da bramo da dio direttamente però c'è un utilizzo della cabala in modo culto oscuro che io so chi la applica questa è una notizia per io so benissimo chi la sta applica conosco perfettamente i personaggi che l'abbiamo e che sono assolutamente da condannare per il loro utilizzo così becero così squallido a livello anche verbale c'era un riferimento biblico forse apocalisse 13 credo di giovanni che dice che useranno anche nome blasfemi per poter impiantare tutto questo disastro beh andate a vedere le posizioni dei personaggi in tutta europa e traducete i loro cognomi mi sembra proprio che la per non essere tanto mistici però essere perlomeno esoterici c'è qualcosa che somiglia molto a queste questi capitoli denunciati tempo addietro ci sono nomi blasfemi fate voi io non darò nomi per non creare sicuramente delle condizioni così di ripicca ma come diceva il mio predecessore stefano erario sei il più potente di tutti perché non hai nulla che dici tu io non avendo nulla credo di essere abbastanza pericoloso non mi faccio corrompere passerei alla alla seconda domanda di simone ronconi che dice cosa ne pensa la massoneria sempre si può rispondere di questa situazione attuale nel mondo staturita dal sasco 2 e direi che qui già abbiamo risposto credo di aver risposto ma non come massoneria ripeto ma non compare perché non non c'è non c'è mai nessuno che è andato lì ha detto noi della loggia abbiamo fatto questo non credo che sia possibile questo se poi qualcuno ha fatto delle analisi cioè mi dice che alcuni governanti in posizioni particolari abbiano aderito a logge le fantomatiche cose signori io vi dico una parola il bianco e il nero il nero non è bianco sporco è nero e viene chiamato nero altrimenti si chiama bianco la massoneria non può essere deviata la massoneria la libera muratoria come piace chiamarla a me è massoneria va bene tradizionale tradizionale non vuol dire che qualcosa locale che si fa il giro della piazza no tradizionale intende proprio al fondo ha una conoscenza cabalistica la tradizione è la cabala la cabala vuol dire avere conoscenza profonda ed esoterica ermetica anche perché è stata ermetica per alcuni periodi cosa che oggi non lo è più e quindi che la massoneria sia massoneria tradizionale sul fondamento anche cabalistico assolutamente nei suoi significati nella sua simbologia assolutamente ma che altro non può essere una libera muratoria e che venga chiamato per favore consorteria come lo dice la lingua italiana cominciamogli a chiamare per nome e cognome e con questo rispondi alla una domanda di un'altra nostra utente barbara greco che chiede appunto differenze tra massoneria massoneria e lo hai appena detto solo che la domanda precedente continuava con e quali conseguenze si aspettano per il futuro dell'umanità ah guardate ve l'ho detto anche questo vi ho risposto le conseguenze sono che tutti iniziano con la massoneria voi andate fate un trascorso storico e vi accorgerete che quando si comincia ad impiantare una dittatura si inizia togliendo a coloro che si proclamano liberi la libertà io vi dico anche un'altra cosa rassicuro tutti i fratelli che mi ascoltano la massoneria per sua natura viene già proviene già da un mondo dove non è stata mai accettata e che questo è il periodo in cui noi siamo anche così esposti e liberi a parlare con voi no diciamo e abbiamo questo peso oggi la massoneria ha un peso che è quello di spiegare al mondo profano che non si tratta di associazioni occulte o sataniche le nostre altri forse sì ma perché hanno idea di cos'è satana in riferimento al dogma noi abbiamo anche altri aspetti ma che sono sempre diciamo e che compongono l'uomo in realtà nei suoi due aspetti quello negativo e quello positivo oggi noi cerchiamo quello positivo quindi io non posso veramente così accettare queste queste questi connubi queste associazioni tra una massoneria e quella che io ripeto ribadisco essere consorteri ultima domanda veronica nike ci chiede che non tutto il rispetto premette lei ma questi titoli o gesti che si fanno quindi si riferisce alla ritualità sì mi sono sempre sembrati infantili può spiegare perché il panno è chiarissima e sono se sembrano buffi anche a noi ancora tutt'oggi infatti non è che ci piace proprio farci almeno per quanto mi riguarda non è che mi piace proprio il grembiolino al di là del tempo quindi che ci sia del buffo dal punto di vista profano lo posso anche comprendere ma che ci sia invece assolutamente un senso importantissimo e diciamo anche così di autostima all'interno invece della massoneria questo sì perché i nostri grembiuli le nostre vestigia i nostri simboli che indossiamo in realtà in massoneria servono a confermare una conoscenza nel grado in cui ci si trova perché è stata riconosciuta da altri che già hanno avuto lo stesso grado da distinguere con quelli autoreferenziali che non hanno mai fatto un giorno di massoneria e che si mettono grembiuli fan fantomatici e fantastici che basterebbe star trek per per farli capire quella anche lì guardatevi bene non che io voglia distinguere la nostra o quelle di alcuni iscritti ad altre massonerie come assolutamente no io sono intervenuto in un in una diretta di un famoso giornalista che io stimo moltissimo e che lui oggi spero mi senta pure dalla mia voce che lo stimo che in delle indagini di del mostro di firenze uscì fuori la questione della loggia massonica poi andando a leggendo a leggere le carte cosa che io faccio a differenza di altri ci accorgiamo che la testimonianza di questo testimone che era una donna dice di essere iniziata da un soggetto che la portò in un luogo e che la iniziò ragazzi chi sta in massoneria lo sa che questo non è possibile ci vogliono sette maestri riconosciuti altrettanto dalle altre massonerie se provenienti da altre o dalla stessa obbedienza che hanno un trascorso massonico che hanno anche un noi la chiamiamo un una patente massonica patente vuol dire che abbia acquisito delle conoscenze per guidare una loggia o per comunque condurla insieme ad altri cioè lavorare quindi non è possibile diffidate da queste da queste associazioni pseudo quelle del nuovo templarismo possono essere accettate per i per i fini anche se lì tu sai benissimo che tu sei stato altrettanto testimone della mia controversia i cavalieri templari sono morti all'epoca avevano altri 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 diciamo eh principi da poter tenere quelli che ci sono oggi qualcuno è sicuramente confluito nella massoneria laica ma la massoneria già esisteva perché l'abbiamo detto cos'era specie nell'epoca medievale e quindi qualche d'uno è confluito ha anche lasciato le le modalità del delle ritualità noi siamo assolutamente d'accordo ma che oggi possa persistere un cavaliere templare a me fa sorridere perché il cavaliere templare aveva dei giuramenti sui quali oggi non credo che qualcuno li potesse magari ma neanche immaginare se ne è persa completamente la natura no ma perché scusate ma avevano i voti i voti che oltretutto essendo cavalieri monaci avevano i voti della castità i voti della povertà io ho conosciuto cavalieri templari oggi che hanno la ferrari non voglio criticare il fratello perché noi li chiamiamo anche fratelli bonariamente ma fratelli templari non fratelli massoni noi non vogliamo giudicare il fatto che abbiano comprato la ferrari noi siamo felici anche perché la ferrari in auto italiana e chi ha ambizioni che se la compri pure basta che non lo faccia a discapito di altro ecco detto questo non giudico il fatto della ferrari ma che questo cada in contrasto col principio templare mi sembra che sì mi sembra che non si possa oppure magari avere più più molli e non rientra neanche in quello che era diciamo l'aspetto anche giuridico della della dell'ordine templare che credo che sia morto io ho fatto anche un articolo che è stato pubblicato mi diverto fare questo ma che comunque sia salva il templarismo moderno ci salva dal fatto che comunque si abbia ancora il trasporto di questi principi principio del bene principio della fratellanza il principio del anche religioso cosa che evidentemente a me non appartiene alla mia obbedienza non appartiene perché anche lì bisogna fare dei distinguiti ci sono massonerie diciamo confessionali che si rifanno anche dei concetti del cristo di gesù e quant'altro ma ci sono assolutamente massonerie quindi gran loggia e logge che lavorano su basi tradizionali cioè cabalistiche e che hanno un'idea anche cristica in modo abbastanza differente e che quindi anche lì bisogna andare poi con le pinze a trovare dei contesti che siano integri della istruzione interna ecco quindi non credo che ci possano essere più questi tipi di contesti chiamiamoli in modo diverso rinnoviamoci la massoneria io io lancio questa sfida a tutti i fratelli d'italia come diceva il nostro inno come dice il nostro inno togliamoci sta parola massoneria non la facciamo torniamo ad essere liberi muratori perché massoneria è stato un momento politico della libera muratoria dove da quella operativa si passava quella speculativa e quando c'è qualcosa di speculativo io sempre odore che ci sia qualcosa che non torna e infatti poi si è espressa durante il periodo del degli famosi illuminati con un altro quello fu un tentativo assolutamente diretto alla massoneria per governarle poterla gestire ma non ce l'hanno fatta la libera muratoria è andata oltre e ve lo dice il fratello cerci questo cerci quando da fratello massone con si contrappone all'unica figura ambigua ambigua ma non troppo per i per gli storici quella di hitler che guarda caso aveva soppresso il mondo ebraico quello che io dico sano anzi unico mondo ebraico lo ha sottomesso e sottomise anche la massoneria in contemporanea perché erano quelle quelle persone quelle quelli uomini e quelle donne che potevano dar fastidio eravamo etichettati come in quel caso anche come figure politiche immaginate però politiche dal punto di vista ideologico perché noi siamo per la libertà la libertà che non deve superare chiaramente i limiti della libertà degli altri la famosa frase attribuita a volter che di volter non era ma che comunque sia la libertà no va difesa fino alla morte no perché tu possa esprimere la tua bene io credo che abbiamo risposto un po in questo ambito e aver distinto bene quali sono qual è la natura della massoneria confronto ad altri atteggiamenti e che e che se la si smetta di attribuirli a questa scuola perché si mettono in pericolo centinaia migliaia di persone guardate la massoneria più massoni che voi non vi immaginate ce le avete di fianco ce le avete accanto ce le avete in famiglia ce ne avete che non perché la massoneria oggi la libera muratoria è fatta di uomini e donne di tutti i ceti non è più una massoneria come il tentativo che dicevo prima di essere elitaria solo in un gruppo è stato il tentativo di quelli illuminati di baviera di inserire questo contesto anche nella massoneria per poterla corrompere e manomettere cosa che non ce l'hanno fatta allora si sono staccati in consorterie e quindi massoneria è salva quindi non mettete a repentaglio la salute e la vita di persone che invece lavorano per il bene tutti i giorni ci fu una domanda di un mio conoscente disse ma ma tre scusami era chi era il capo di governo ma ma quel capo di governo è un massone e io gli risposi con la solita bella secca risposta inseguilo se se il venerdì va in una loggia massonica allora è un massone se questo va solo per ristoranti o se va solo a fare gruppi assemblee mondiali io non credo che sia un massone la condizione necessaria e sufficiente affinché un massone possa essere dichiarato libero muratore è costantemente nel tempo deve lavorare in una loggia massone deve ritualizzare perché noi sappiamo l'importanza di quel momento che è un momento spirituale attenti non è un momento così magico culto di stregonerie varie le stregonerie le stanno facendo attenti le stanno facendo e noi se ne siamo accorti già da tempo perché noi le conosciamo noi abbiamo una conoscenza esoterica ed esoterica anche magica ed occulta ma perché dobbiamo saperle distinguere e cercare di portarci dal buio alla luce e non al contrario stefano io ti ringrazio del tempo che ci hai dedicato della tua disponibilità a rispondere alle domande quelle comode e quelle un po meno comode ma sei stato molto gentile in realtà non io non rispondo a però mi hanno segnalato delle del dell'ins anche degli insulti cosa che io che io vi prego veramente se volete sentire di massoneria sentite un massone oppure se avete dei dubbi non insultate la gente perché questo è il loro gioco mettervi contro dividervi non vi allontanate da voi stessi anche se vi lasciano in casa abbiate l'idea che vi dovete unire unire chiedendo confrontatevi chiamate chiamatemi avete il nome il telefono su internet io sono disposto ci sono alcuni nel tuo gruppo che mi insultavano un po di anni fa prova a chiedere adesso che mi chiamano privatamente maestro che è proprio ma che loro abbiano avuto un'idea diversa della massoneria da quando mi sono messo a disposizione perché il massone deve mettersi a disposizione perché noi nella fine del rituale diciamo adesso portiamo la massoneria nel mondo cioè vuol dire portiamo fuori quello che stiamo imparando e quello che oggi siamo alle a me personalmente la massoneria mi ha salvato mi ha salvato e io lo ripeto salvatevi se volete ma parlate non insultate non fate gli stupidi perché io sorridendo c'era uno che mi diceva che io voglio visibilità signor lei io non ho il camp il citofono col nome scritto non ho visibilità non ho beni materiali ma chi vuole la visibilità chi vuole la visibilità io io ho accettato tu lo sai Dario che io questa è la mia seconda intervista pubblica che l'ho accettata volentieri per la persona che sei una persona splendida sei sempre stato sul limite sempre della conoscenza delle cose prima oggi ti vedo un po più agitato e ti capisco quindi questo è un po più agitato nel senso che comunque sia ti stai preoccupando delle situazioni io sono assolutamente contento stiamo a guardare il 2021 non sarà un bel quello che sta succedendo a quello che sta succedendo no sulla forma mentis tu sei eccezionale in assoluto sin da subito ci siamo intesi ci siamo incontrati ci siamo voluti incontrare e adesso io sono stato disposto anche a metterci la faccia sempre come massone non come massoneria la massoneria poi mi dicono alcuni che qualcuno ha scritto che la massoneria non sta intervenendo su la massoneria non può come gruppo come istituzione intervenire con proclami noi non siamo un partito politico noi non siamo chi lo vuole ci sono alcuni fratelli ex fratelli dicono loro che istituiscono partiti politici massonici ma vengono meno a quello che è il precetto della massoneria quello che il il contesto massonico c'è la pluralità di idee che e quindi come si fa ad avere un'unica idea ad un unico progetto la politica purtroppo ha delle indicazioni che sono uniche che se tu non sei in linea col partito vai via e allora noi si dice in massoneria cento massoni cento risposte questo ti fa capire quanto si possa creare un partito massonico o quanto si possa rivendicare una massoneria che deve parlare al mondo dice no io sono spaventato nel giorno in cui vedo il massone che parla per la massoneria nel mondo con proclami sia pro che sia contro mentre sono per quello che invece dice usciamo fuori ed ognuno di noi dia il proprio supporto a che la gente capisca innanzitutto che non siamo noi i consortari e che quindi evidentemente non abbiamo colpe dirette ma se ci fossero fratelli nelle posizioni strategiche o anche professionali che si stanno comportando contro i principi della massoneria bene non sono più massoni sono dei disgraziati quindi non associatemi e quindi la massoneria il massone faccia il suo che la massoneria non esca con dei proclami ufficiali è giusto che non lo faccia perché perché può essere un proclamo fatto da una giunta cioè l'organo che governa tutte le logge e che magari non è espressione di altre logge come succede molto spesso e nelle grandi nelle obbedienze che hanno più iscritti la massoneria non è mai stata coerente mai il dario io vi ricordo che ci sono stati degli scismi incredibili da quelli inglesi a quelli francesi per la religione l'introduzione dell'ora di religione quella nostra quella di saverio fera che creò quella condizione nel 1910 della scissione del grande oriente d'italia ma ma poi c'è anche quella diciamo della ingenuità massonica che noi la reputiamo così fra fratelli perché l'ingenuità che ebbe raul palermi ad approvare ad appoggiare con la gran loggia d'italia il fascismo almeno il fascismo del primo del primo momento cosa che 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 portò l'altro gruppo forte ma non era tanto forte quanto oggi che era il grande oriente d'italia che si contrappose a queste scelte ma anche per lo stesso assassino di di matteotti insomma di giaco matteotti questo creò già vedete la massoneria non è un corpo unico è fatto di uomini e di pensieri ma i gran maestri devono stare attenti perché quando loro parlano tirano dentro tutti involontariamente e questo non si può permettere i gran maestri come ha fatto anche il nostro il mio gran maestro con il suo saluto di fine anno è stato chiaro chiaro e limpido come non mai come la sua benevola persona è amabile persona cioè quella che la massoneria difenderà i principi acquisiti che sono inviolabili ma che comunque sia a di fondo la fratellanza l'uguaglianza e la libertà sempre che questa libertà non nuoce ad altri quindi ti faccio un caro saluto ti faccio tanti auguri e ripeto privatamente o no io risponderò a non agli insulti perché quelli con quelli sorrido non hanno neanche guarda ce ne sono tanti me l'hanno detto però diamo invitiamo no evitiamoli ma nel senso che non hanno purtroppo non hanno futuro e sono i primi ad essere manipolati perché vengono spostati come una serpe da una parte all'altra ed è facile oggi vi dividervi basterebbero due paroline per dividervi invece oggi io invoco invoco mi ergo a invocatore invoco l'unità cercate l'unità la nostra maestranza cerca l'unità anche se ci sono differenze anche se ci sono separazioni parlatevi e confrontate nel diversa la salute il pronto con il diverso per la crescita il confronto con di accettare innanzitutto il diverso dovete accettare che ci sia qualcuno che non la vederlo anche come una occasione per una crescita personale ma assolutamente perché attraverso l'opinione dell'altro noi mettiamo in discussione le nostre che possono essere dei pregiunizi nati che possono essere la nostra esperienza della vita e che quindi noi magari abbiamo l'idea di una cosa io mi ricordo quando ci sta qualcuno che dice ma la massoneria non accetta le donne ma innanzitutto devo fare un riferimento storico il primo che quindi e vedi ci sono rivisitoristi storici che vogliono garibaldi in un'altra faccenda in un altro mostro ma anche quello va guardato temporalmente ma lo sapete qualcuno lo sa che garibaldi ebbe problemi nella gran loggia d'italia proprio perché nel grand oriente d'italia scusate proprio perché apri la possibilità alle donne e stiamo parlando in tempi non sospetti quando le donne ancora erano utili soltanto a fare le orecchiette qui da noi quindi vedete che comunque sia prendete il buono di ognuno e che quindi da lì si cresce le rivisizioni storiche bisogna avere la macchina del tempo quanti negherebbero se stessi con la macchina del tempo perché andrebbero a intuffarsi in un in un periodo dove tutto li tornerebbe chiaro bene ognuno del suo tempo agito nel suo tempo e quindi oggi noi abbiamo la responsabilità di essere più acculturati più colti più saggi quindi e quindi basarci su quella che è la nostra vita attuale guardando al futuro certo guardando assolutamente al futuro ma non rinnegando cose non ci appartengono ci appartengono alla nostra cultura e magari appartengono anche alla nostra critica cioè quello di non poter più compiere errori del genere cosa che questa consorteria non ha mai aperto un libro e che ti chiude le biblioteche perché tu non possa leggere libri stiamo attenti stefano grazie ancora grazie a te dario lascio un caro saluto e un saluto a tutti gli amici che ci seguono grazie a tutti arrivederci un caro saluto e anche ai fratelli e le sorelle che ci guarderanno ciao dario ciao